Liliana Lensi Edito da Tab Edizioni e presentato a Palazzo Sacratistrozio a Firenze Il testo nasce dalla trascrizione e rilettura dei diari di scuola della maestra Lensi Arricchiti da note che ci permettono di ampliare la lettura dal punto di vista pedagogico, storico e culturale L'idea di questo libro è un'idea che è maturata tanto tempo fa Perché questi diari erano presenti in casa da sempre Io li avevo letti quando ero studentessa universitaria E sempre c'era quest'idea di trascriverli Ma la trascrizione di diari è qualcosa di complesso È qualcosa di complesso perché si tratta di entrare nella mente, nella scrittura, nel pensiero di un'altra persona Gli anni 50, 60 e 70 sono stati periodi di grandi cambiamenti Soprattutto dal punto di vista politico ma anche sociale e culturale Anni di grandi novità che tendono a modificare la scuola Come i nuovi programmi del ministero ma anche con le sperimentazioni della scuola Città Pestalozzi In modo che i bambini costruissero una nuova coscienza civica fino a Don Milani Queste esperienze transitavano, transitavano i maestri più attenti, i maestri più coscienti anche In qualche modo facevano proprie queste sperimentazioni innovative della scuola E le mettevano in pratica nel loro agire quotidiano Il libro è strutturato in due parti Nella prima ci sono le trascrizioni dei diari con le esperienze pedagogiche della maestra Lensi Nelle scuole dell'Empolese e del Mugello Nella seconda troviamo invece una serie di approfondimenti a partire dai diari stessi Una pagina di cronaca scolastica che vuole sottolineare l'importanza ancora oggi Di compiere le scelte di insegnare nonostante le difficoltà Mettendo al centro gli studenti e le studentesse che saranno gli adulti di domani In questo libro si parla di scuole piccolissime, di paesi piccolissimi Si parla di Pillo, si parla di Visignano, si parla di Pagnana, Avane E dunque tutte scuole assolutamente periferiche I bambini erano proprio abituati al silenzio Abituati a stare in silenzio, a non interloquire, a non conversare E questo è uno dei suoi impegni, uno degli impegni che lei si prende Abituarli al dialogo, abituarli a conversare, abituarli a essere protagonisti